Salve a tutti, io sono 981Demon e questo è un tutorial su come creare un nuovo account di Facebook. So che è facilissimo, però sapete che per i nuovi che hanno avuto un pc web page può essere un'occhia. Allora, clicchiamo su registrazione, anche perché io l'ho già soldato, mettiamo un nome, io metto ciao, con un nuovo account. La vostra email, la potete creare con vari proprietari, con mail, con scritto, anche il gmail che usate, lo resta, ecco con il gmail, puoi vedere anche il numero .it e eccetera. La mia email potete creare forse per un tutorial appentato. Allora, io mi metto qua, 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 qui, c'era, ciao, ciao, il video.it, no, spedetto, per quanto mi metto qua, quindi mi metto il gmail, no, ti metto in passo un appasso, puntiamo un'altra spesso metto l'appuolo c'è certo puntiamo la data del mare continuo e per quello che indirizzo e mail e e si dovete compilare il vostro indirizzo e mail la schermata i loghi non sarà così perchè io ho cambiato con un tagging per crono e beh ecco il nostro perdito ciao a tutti e alla prossima ragazzi grazie grazie